Cari amici di Valdotv, ben ritrovati! È tornato aprile, è tornata la primavera, è tornata F1 Series, la Electric Formula One Championship organizzata da MyCandyTeam. Andiamo a vedere! Ci troviamo nella splendida cornice della birreria Pedavena, perché oggi verranno ufficialmente presentati i drivers e le novità della stagione 2018, pensate dall'ideatore della serie Andrea Grigoletto, in collaborazione con la pista verde di Fener. Il progetto F1 Series è un campionato di Formula 1 elettrico della categoria Formula Storica e Non, dove i piloti parteciperanno a queste quattro gare che andranno a comporre il campionato per poi decretare il campione del F1 Series 2018. La pista verde di Fener ormai è il quinto anno di attività con la nostra gestione della Prealpi RC. Siamo molto soddisfatti di quello che è stato fatto, del lavoro che abbiamo portato avanti e in questi ultimi due anni mi aggancio al tema della serata, come vedete anche alle mie spalle stiamo portando avanti il progetto F1 Series, che è il secondo anno, e al primo anno il progetto Super Touring, due series nate per puro divertimento, con dei costi accessibilissimi, per creare delle serie entry level, per provare a vedere se siamo in grado di far entrare nel nostro mondo anche nuove leve, nuovi ragazzi che vogliono iniziare, per aumentare sempre di più l'utenza della pista. Vincere! Vincere! Vinceremo! Vinceranno! Quattro prove, un unico campionato, gareggerete con un solo scopo. Vincere! 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 Vincere!